Si è tenuta oggi in municipio la conferenza stampa di presentazione del mercatino di Natale di Arco, giunto quest'anno alla sua diciottesima edizione. Le casette in legno, da quest'anno acquistate dall'Associazione Asso Centro con il finanziamento del Comune, saranno 40 in totale, dislocate come di consueto lungo il perimetro della chiesa collegiata. Immancabile è anche la fattoria degli animali, con tanto di vitellino da allattare e il trenino che porterà i turisti in giro per il centro. Tra le novità quest'anno, la dedica dell'edizione del mercatino all'illustre concittadino Giovanni Segantini. Sentiamo l'intervista al presidente di Asso Centro, Bruno Lunelli. Si sta avvicinando ormai il periodo natalizio e come ogni anno il mercatino di Natale di Arco. E quando partirà? Quanto durerà? Ecco, purtroppo siamo già all'inizio dell'inverno, ma questo purtroppo è una felicità perché vuol dire che inizia il mercatino di Natale. Quest'anno compie 18 anni, diventa maggiorenne, di conseguenza le aspettative devono essere maggiori e anche l'addobbo, la presentazione del mercatino, deve avere una cura sempre più suggestiva e più attraente perché il mercatino di Natale di Arco ormai è entrata nella tradizione, nella proposta turistica della nostra comunità. E quanto durerà fino all'epifania come sempre? Ecco, il mercatino inizierà il 20 novembre e finirà il 6 di gennaio. Abbiamo 35 giorni di attività in cui all'interno di questo percorso, diciamo, natalizio, troviamo tutta una serie di proposte interessanti, sia per quanto riguarda la nostra cittadinanza, cioè per i nostri appunto cittadini, ma anche per tutti quei turisti che verranno a visitare Ed Arco. E mi soffermo su questo perché chi viene a visitare Ed Arco, viene a visitare il Trentino e vuol trovare un ambiente particolare, la natura, la pulizia, la cortesia, tutta una serie di cose e di aspettative a cui noi dobbiamo dare risposta affinché poi, in futuro, possano questi nostri visitatori venire poi a rivisitare il nostro territorio. Quest'anno, rispetto agli anni passati, ci sarà qualche novità oppure la formula rimarrà invariata? La formula è sempre la stessa, però come è nostra consitudine cerchiamo sempre di dare qualcosa di novità. Quest'anno il mercatino di Natale sarà dedicato al nostro pittore Giovanni Segantini, per cui faremo un percorso di copie dei quadri lungo tutto il nostro territorio. Poi avremo delle altre attive, che sono ad esempio un bosco creato assieme alla provincia autonoma di Trento, in cui andremo a descrivere la salute e i contenuti del Bosco Trentino. Poi avremo, come sempre, la nostra fattoria degli animali e tutta una serie di manifestazioni che rendono ricca questa nostra proposta.